Grazie a tutti. 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 i luogo, i luogo si chi ha più il mondo per entendere le persone su la radio Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Buongiorno a tutti, che ti fa? Ah, 60 anni stai qui vuole a me Passa per la toalla, è buon effetto Buon effetto, io ho scopo qui, quattro ponte, anche qui, che è che muoge a spalle, crede וכè. OWO. payments Nej Wolverpiglia video No chau Wann work Ok notri give i ok bon Attends, il y a les deux tours de contrôle qu'on parlait en même temps HI3 cours, retour Gilles Salut, je m'envoie cette vidéo 5, 6, 7 minutes de tournage ok, informatif merci, c'est bien sympa moi aussi de mon côté c'est en train de tourner il me reste encore une douzaine de minutes de vidéo après, je retravaille ça et je te mettrai ça sur internet ah oui, quand même de mon côté, c'est plutôt 55, 57 mais bon, guerre plus tu verras ça sur le airsmat ça ne monte pas beaucoup plus d'autant plus qu'il y a j'ai pas mal de QRM de mon côté d'autres stations qui se manifestent c'est pas toujours forcément évident Gilles retour de micro à toi Eric il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui s'amuse à siffler ils sont quatre pommes dans l'ampolivare voilà la station qui siffle si elle veut se manifester elle lui laisse un petit vent alors on a voir la station il y a quelqu'un qui s'amuse il y a quelqu'un qui s'amuse mettre sur l'air de la station vous nous mettez ? Noël tranquille. Non c'est l'habitude de fêter Noël, mais nous allons à l'édition familiale, tu vois, le 1er janvier, la famiglia se rencontre et la musique qui est tout. Il faut pas te permettre que je vais danser, mais je vais jouer un peu de musique, je vais jouer un peu de musique de crésole. On peut voir ça Gilles. Il y avait une autre passion pour toi, Christian. 57, 58 au dernier passage, Christian. Après il y a une autre passion pour toi, Christian. Je vais prendre un plan. L'Arabie. Oui, Eric. L'Arabie. Je ne suis rien connu. L'Arabie. J'ai vu que c'était le temps de la musique. L'Arabie. L'Arabie. Sì, ho avuto delle balizze, più Gilles, non ho capito. Sì, se ti avessero a parlare, se ti avessero a parlare le cliente nazionale. Sì, mi preoccupa di parlare, allora che ci sono altre station. Non, 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 solo una pausa, perché in questi ultimi tempi, ha bisogno che io me lèvi a 4 ore, 4 ore e 30 minuti, quindi non è stato più evidente. Sì, mi preoccupi per parlare. Ok, non, non. Non, 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 non In accompanyingCE le chãozzi a un prodotto a lui apprend Francisco fino su alternatività Chid. Ma scuola diburgato su questo video ti ho infatti a открывare. Poiést compliance con Rémi e poiconsto con lui Maldon suspension Review SperoIQ era live qui pate senti come prima per il U.S.O Con stoI a skinny Global Gilles, ti fa un ritorno del micro. Ok, non c'è ci. Ah, ma c'è, ma c'è un'altra cosa, Rémi. Rémi, ma cosa è la, tu fai fosce-frutt, e io ti ho avuto l'avantage. Ah, ma c'è, ma c'è un'altra cosa, ma c'è un'altra cosa, ma c'è un'altra cosa, et di un'altra cosa, ma c'è un'altra cosa, ma c'è un la, ma c'è un la, ma cè un la, ma cè un la, ma cè un la, ma cè un la, miucerènes, i buongerènes, bonjour, c'è chapitre, לא 4 clic, A presto, a presto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.